Gentili telespettatori, buona giornata. Guglielmo Epifani è morto, l'ex segretario della CGL, aveva 71 anni e ex segretario dal 2002 al 2010 e una breve periodo nel Partito Democratico. Era deputato di Liberi e Uguali. Il ricordo di Landini ha dedicato la vita al sindacato, Letta dice notizia drammatica, Bertinotti dice si impoverisce la vita pubblica italiana. Quindi addio ad Ettore Guglielmo Epifani, morto a 71 anni, nato a Roma da genitori campani, l'ex segretario generale della CGL dal 2002 al 2010, dall'11 maggio al 15 dicembre 2013 fu segretario del Partito Democratico, partito che aveva lasciato nel 2017, dal 2018 era deputato di Liberi e Uguali. Secondo quanto trapela da ambienti parlamentari, era stato colpito da un'embolia polmonare circa una settimana fa. Ricoverato d'urgenza, l'ex sindacalista sembrava aver stabilizzato il suo quadro clinico. Nelle ultime ore i parenti e i parametri sarebbero poi peggiorati. Epifani lascia la moglie Giusy De Luca, medico dirigente dell'INAIL. Arrivederci a tutti.